La maggioranza in Consiglio Comunale è coesa ma i confronti avviati a livello nazionale e regionale con Udc e Fli si faranno anche a Lanciano. E la posizione espressa dal segretario cittadino del PD, Leo Marongiu, dopo i rumors sulle prime liti della maggioranza, descrivere la coalizione politica a sostegno di Mario Pupillo in fibrillazione non corrisponde a verità, dice Marongiu. In questo anno di amministrazione tutte le votazioni in Consiglio Comunale non hanno mai mostrato la minima divisione e gli incontri tra le forze politiche di maggioranza sono continui. I contatti con i Verdi per una verifica sul ruolo che intenderanno assumere nel prossimo futuro sono avviati e c'è il comune accordo di ritrovarsi a fine mese. Nel corso dell'ultima seduta consigliare per l'approvazione del bilancio di previsione, il consigliere Alex Caporale della lista civica Uniti per Lanciano ed esponente dei Verdi si è astenuto dal voto e nelle scorse settimane aveva promosso una manifestazione di protesta sotto palazzo di città contro le tasse troppo alte. Per quanto riguarda i confronti con le forze d'opposizione, nello specifico Udc e Flia, concluso Marongiu, continueranno così come sta avvenendo a livello nazionale e regionale. A tal proposito giova ricordare che l'Udc, così come tutta l'opposizione, ha votato contro il bilancio di previsione 2012. Le ferie d'agosto potranno aiutare a riflettere sulle future alleanze o sul consolidamento dell'attuale maggioranza.